Allora, vediamo chi c'è un po' da... da sceltaare. Ok, siamo a centro mappa? Andiamo qui, andiamo qui, andiamo qui, 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 vai, vai! Comincia! Eccole, eccole, eccole. Arrivano, arrivano, arrivano! No! No, inizia fra 3, 2, 1. Ok, basta. Ciao. Ok, eccoci qui per riprovare Langer Games. Dobbiamo... capito? Dobbiamo farcela. C'è uno che usa sprint, mi sa, eh. No, è quando corre. Vabbè, comincia tra pochissimo, non ti vedo, ti vedo, ti vedo, ti ho di fronte. Eccoti, eccolo, eccolo, eccolo. Ah, eccoti, eccoti, eccoti. Ok. Tra 3, 2, 1, via! C'ho un'arma, c'ho un'arma, c'ho un'arma, c'ho un'arma, Matti, dove sei? C'ho un'arma. Ce l'ho pure io l'arma. Bella, bella, dove sei? Bella, quella, pe, 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 pe. T'aiuto, t'aiuto, t'aiuto. Vecchio, vecchio di merda! No, vecchio di merda! Schifoso! Vecchiaccio! Vieni qua, strontetto. Ci deve morire il gatto! Vieni qua, vieni qua, vieni qua, che mi serve l'armatura tua. Soffia, vale, soffia. Eh, soffia, stica. Mi sta a picchiare da dietro! Matti, torna indietro, torna indietro, torna indietro, torna indietro, torna indietro! No, no, mi sta più a fuoco pure me. Oh, è questo! Che cavolo! Mangia, 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 recupera la vita, recupera la vita. No. Oh, spegnete. Ok. C'abbiamo l'arma, c'abbiamo l'arma. C'è l'armatura, c'abbiamo tutto, ci serve il cibo, poi ci serve la gente da ammazzare. Ok, gg. Allora, andiamo verso di qua. Ok, vai. Ho visto un po' di nick, ho visto un paio di nick. Eh, qui ci sono le cese, occhio, occhio, esploso, che cazzo è esploso? Ok, ammazzato, uno. Fammi andare a DM se tu sei a pochi cuori. Eh, infatti, va avanti te. Chi c'è, chi c'è, chi c'è, chi c'è qua sopra? Eh, ce n'è uno sopra. Non vedo, non vedo nessuno. Se mangia tu, ok, lui non mangia. Dove sei, dove sei, dove sei? C'è una cesta qui, la piva? Vai, vedi, vedi. Ok, c'è un po' di roba per me. Ok. E un po' di cibo, se ti serve cibo, dimmelo. Eh, sì, ok, perfetto. Allora, eh... Per me è meglio ritornare lo spawn? Dici, no, secondo me dovremmo andare in culo agli altri, oppure cercare le ceste. Ma qui torno, non ce ne stanno più ceste? Ti ricordi sta mappa? No. Allora, qua lo spawn. Sì. Ok. No, è sotto lo spawn. Non so dov'è, io so girare tipo insieme a te qua, boh, andiamo, andiamo, è importante averci un'arma. È sotto, è sotto lo spawn. Tu sei? Sei sceso? Sì, sì. No, dove vai? Qua, qua. No, no. C'è una cesta qua. Ok, no, non c'è nulla. Dai, andiamo, andiamo. Oh, sotto, sotto, c'è uno, c'è uno sotto. Come facciamo a scendere? Qua, qua, vieni, vieni, seguimi. Ok, arriva. Arriva, 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 arriva. Dai, 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 dai. Oh, e spegniti. Ah, pensavo che te stava bruciando lui. Dov'è? Era qua dietro, era qua dentro. E là sopra, 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 andiamo a pia, andiamo a pia, andiamo a pia. Ok, ok. Eccola, infatti ci stava in incontro. Sta mangiando, ha mangiato la mela d'oro, mi sa, eh. Non so, non ha mangiato, non ha mangiato la mela d'oro. Oh. Aspetta, eh, osa... Oddio, Imbot! Ok, buono! Buono, buono. Buono, mani una patatina. Tiè. Eh, dammi, dammi qualcosa di buono, mi piacere. Allora, cosa vuoi? Oh, c'è la mela d'oro! Vabbò. Aspetta, fammi mangiare a me. Ok. C'è una cesta là. Ok, una cesta. Allora, aspetta, aspetta, a te, te do questo, tu vieni. Dimmi, dammi, dammi, dammi tutto. Buono, buono, buono. Che sennò sei poca equipaggiata. Casomai dammi quelle di tuoi. E non ne ho io. E come no? Te ne sei tante adesso. No, 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 non li avevo. Ah, no? No, no. Non c'è nulla in testa, c'è, sasta, ma aprì dieci volte, prima, 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 prima. Prima non c'è nulla. Ok, ok. Dai, quanti mancano? Manca un mondo ancora. Comunque, dove cacchio sei? T'ho perso. Sto sopra. Eccolo, eccolo. Uno, uno. Vieni sopra, vieni sopra, vale. Come si, qua sopra? Ehm, no. Sì, 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 vieni, vieni, vieni. Come si ha messo? Eh, ho visto che c'ha un bel corpetto, eccolo. Vai, vai, ti seguo, eh. Vai. Dov'è? Ok, sto a fare il giro, sto a fare il giro, sto a fare il giro. Sto a fare il giro. Torna qua. Gigi l'ho mazzato. Buono, non te, io sto a fare il giro. Che c'ha di buono? Dammi, dammi, dammi. Aspetta, dammi, dammi. Aspetta, vale, che devo recuperare un po' tantino. Mettete questa. Aspetta che io vi ho un po' di roba qua. Mettete quella, ok. Mettete, ok, perfetto. Poi tieniti questo e tieniti questo. Che mi ha dato? Ah, buono, 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 buono. Tutto, siamo in full. Senti una cosa, c'hai un ingotto di ferro, te? No, c'ho nulla. Vabbè, l'abbiamo inculata, l'hai inculata. Perfetto, perfetto. Allora, noi siamo fatti abbastanza bene, eh, vale? Sì. Guarda quanto siamo adesso. No, stai messi bene, dai. Dai, dai, non è maluccio. Io ritornerei lo spawn. C'hai l'arco? Sì. Vuoi le frecce? Vuoi le vuole da me? Dimmi. Tienilo te l'arco, che tu sei molto più... Molto più brava con l'arco. Aspetta che mi metto... Oh, è questo! Arrivo, 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 arrivo. Dov'è? 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 Vieni, scendi, scendi le scale, scendi le scale. Sto scendendo, sto scendendo, sto scendendo. Mi sto shiftata, vai. No, no, vai, vai, tanto è tutto in pelle. Ah, ma fa un culo. Pensavo che fosse uno culo, tipo. Eh, no, però c'è la spada. Eh, la spada, ora la facciamo mangiare, aspetta. Oh. Mamma mia. L'arco, l'arco. Dov'è l'arco? Madonna l'arco. Ok. Aspetta, dove è andato? Dov'è salito? Dov'è andato? No, no, è andato a destra, a destra, a destra, qua, qua. Vai, vai, vai. Seguimi, seguimi, seguimi. Vai, 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 vai! Corri, 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 corri. Toglite, tolite. Eccolo. Vai, bello. Gigi. Vai, vai, prendelo, prendelo. Eh. Ah, e vabbè. Sto a fare il giro di là. Ok, io mi recupero le frecce. Ho sbagliato a tirare. Ok. Dov'è? Sta andando su, sta andando su, sta andando su. È salito? Vabbè, io magno un attimo. Mi sistemo un attimino perché ho l'inventario tipo de merda. Ok. È morto? L'hai ammazzato? Sì! L'hai ammazzato? Tutti l'ho ammazzato, tutti, vale. Eh, scendi, 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 dai, scendi. Aspetta, aspetta, vale. Che c'è di buono? Aspetta, aspetta un momento. È qua. Dai, scendi. Vale, qua c'è un sacco di roba. Eh, ma dove sei? Sto scendendo, sto scendendo, sto scendendo. Aspetta, salgo io? Sei qua sopra? Non so dove sei. È... Sei sopra? Sì, 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 so sopra, so sopra io. Quindi so, eh, so qua sopra, ci sei tu? Eh, non ti vedo io, però. Ok, dove sei? Mi dici dove cavolo sei? Sono nel secondo piano del... Senti, fai una cosa, scendi allo spawn, io sono pigra, non mi vado a salire e scendi. Aspetta, aspetta, fammi recuperare allora la roba più necessaria, va. Allora, questo buttiamo via, questo... Io scendo allo spawn, tra poco c'è il deathmatch, Matti, c'è il deathmatch. Dai. No! Eh, vabbè, dai. No, vabbè. Eh, fra quanto fa? Fra cinque secondi... Eh, vabbè, questo qui me lo distruggo io. Dov'è? Ho, ho, ho! Ma figlio di puttana, non sei altro. Vieni qua. Non mi picchi a me, eh? Non mi picchi a me. Schifoso, tu e il tuo arco, D'Inverta. Tanto adesso muore. Sì, sì, muore, muore. Non so più a... Oddio, stavo perseguita a un uomo e a una nuova persona. Aia! Scusa, I'm sorry. Oh, mi hai rotto, eh? Preso, 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 togliete, togliete, togliete! No, ok. Vale, senti una cosa. Attenzione. Togliete! È chi? Vabbè, basta. No! Basta, ho capito. Fallo, fallo girare intorno, fallo girare intorno. Vale, to, vieni qua. Vale, lascialo stare un attimo. Ma come lascialo stare un attimo? To, ti do la spara nel ferro. Dammi, dammi la spara nel ferro, dammi. Eh, eh, quella che volevi, non volevi? Sì, sì, oh. E mo? E mo so, cazzi, vieni qua. Ma stai fermo un attimo! Ma non ci sta fermo, quello. Ma torno... Non lo colpisco, non lo col... Oh, vai, picchialo. Picchialo, picchialo. Fate il giro al contrario, lo faccio io, dai. E poi si deve fermare. No, no, resta a fare il giro, resta a fare il giro. Un giorno! Ma certo volte mi fa le scintille, però non... Ma torno... No, colpisco! Oh, che cazzo! Ma dura un'ora così! 60 secondi... Sì, ma vale, però pure te non mi mori. Eh, è tutto il cacchio, però, questo. GG! Aspetta, mangia, mangia, mangia! Mangia! Ti serve cibo? Tiè. No, no, ce l'ho. Tiè, pure ammela, tiè. Sei pronto a picchiarci? L'arco lo butto, non lo uso. Tu ce l'hai l'arco? Mangia la terramela. Eh, io so full, io so pieno. Vabbè, ma lo mangio. Senti, ma ce l'hai l'arco? Eh, no. Lo vuoi tu? Tiè. No, no, tien, no, tien, no, tien, no. No, no, esci, 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 picchia, dimmi, via, non ci picchiamo. Due, uno, via! Vai! Wow, hai vinto tu, dai. GG! Ok, abbiamo vinto, eh. Ce l'abbiamo fatta! Siamo arrivati alla fine! Abbiamo picchiato tutti! E al prossimo Hunger Games! Ciao a tutti, ragazzi!